Nasce a Teramo una mensa solidale dove ogni martedì e giovedì dalle 19 alle 20 saranno distribuiti pasti sigillati e più bisognosi. L'iniziativa dell'azienda per il diritto allo studio di Teramo in collaborazione con l'università e il comune di Teramo. Il servizio di distribuzione del cibo che arriva direttamente dalla mensa dell'Ateneo Teramano sarà svolto dagli studenti universitari volontari nei locali in via Stazio dello storico mercato della verdura. È un percorso che abbiamo pensato con il rinnovo della mensa dell'azienda dell'università e che in collaborazione con la cooperativa che ha vinto la gara e che gestisce la mensa universitaria abbiamo pensato di fare a valle e per ottimizzare l'utilizzo e non limitare o annullare del tutto lo spreco alimentare di creare a valle di questo percorso della gestione ordinaria anche una mensa solidale. Come funzionerà? Abbiamo acquistato una sigillatrice che porterà e sigillerà dei pasti all'interno delle vaschette che poi verranno trasportate dalla mensa centrale, dalla cucina dell'università, presso l'università che abbiamo come azienda, verrà trasportato qui e quindi con volontariato di ragazzi e studenti unite sarà distribuito a chi ne ha bisogno. Quanti pasti pensate di poter distribuire ogni giorno? Ma noi pensiamo inizialmente ci siamo orientati su una cinquantina, poi vediamo come ci adegueremo, non abbiamo grandi limiti nel senso che noi distribuiamo circa 600 pasti al giorno quindi non abbiamo grandi questioni, possiamo anche aumentare e calibrarlo in relazione all'attività e a quello che saranno le richieste. Durerà per tutta l'estate? Seguirà le pause dell'università, quindi le pause estiva, la pausa natalizia e la pausa di Pasqua. Il contributo del Comune è quello di aver messo a disposizione e di questo bisogna ringraziare veramente gli uffici tecnici, in particolare l'assessore Fracassa che si è adoperato per trovare appunto un locale che potesse essere idoneo per accogliere un'iniziativa di questo tipo. A che fine farà questo mercato coperto? Avete pensato di ristrutturarlo? Oddio, adesso vediamo anche se c'è qualcosina per il terremoto, tanti progetti ci sono. Questa è un'area che in questi momenti quando li visitiamo ci rendiamo conto che hanno bisogno di una manutenzione più che straordinaria. La mensa solidale del Lazu di Teramo, oltre ad essere una lodevole iniziativa di solidarietà, potrebbe rappresentare un primo passo verso una riqualificazione culturale, prima ancora che urbanistica, del mercato della verdura di Piazza Verdi. Una struttura degradata in pieno centro storico che ha bisogno di un recupero immediato.